Il successo dell'arte della gioia? Per Valeria Golino inaspettato. Non mi aspettavo tanto. Mi sembrava, mentre la montavo, di aver fatto una cosa bella, ma ogni scarrafone è bello a mamma sua, racconta La Repubblica nel corso del Taormina Film Festival, appena arrivata dal set del film Fuori in cui è Goliarda Sapienza. Una donna a lei molto cara. Le critiche. Nonostante il successo, gli anni che passano, le esperienze di vita vissute Valeria Golino non si sente ancora una donna libera. Non lo sono ancora, ripete Alla Repubblica, sono molto meno libera e coraggiosa di quello che sembro. Il mio carattere ha una superficie di spavalderia. Ma spesso ciò che mi succede intimamente capita per senso di adattamento, intuizione, l'andare verso quel che mi piace e non verso quel che mi è utile. L'attrice e regista non teme il giudizio altrui, non do mai per scontati i compimenti. Ma la verità è che ricordo di più le critiche negative. Cose lette vent'anni fa, un rimprovero. Mi restano non perché mi feriscano, o forse un po', sì, ma perché nella critica negativa c'è sempre qualcosa che, facendo introspezione, riconosco come vera. Forse anche per questo la fa arrabbiare la slealtà, la stupidità, la prosopopea, il non rispetto per gli altri, le cose ingiuste. E oggi per Valeria Golino in Italia c'è troppa inerzia, a forza di adattarci, come popolo mi sembra che non reagiamo più. Da donna poi confessa che, dimentico e perdono molto, è la mia natura. Poi a volte taglio per sempre, una reazione nevrotica, sproporzionata. Ultima battuta alla Repubblica, cosa non si è perdonata? Perdono più gli altri. Mi sopporto, non mi perdono.